Vent'anni fa nacque Facebook e ci cambiò la vita. Oggi coinvolge 5 miliardi di persone, luci ed ombre, impennata di reati tra i giovani. Cala l'inflazione e non i prezzi, l'Italia è in affanno. Quale bene per Torino? Parla Alberto dal Poz. Attualità, il ruggito dei trattori, la riforma delle autonomie, le guerre, Suez, cultura, i quadri restaurati del Duomo di Torino, chiesa, i vescovi da Papa Francesco, la nuova catechesi per i giovani, di Repole, 1500 catechisti si incontrano, oratori, il Carnevale, Druento, i vent'anni dell'isola che non c'è, San Salvio per il quartiere, la Cappellania Filippina, la Voce e il Tempo, l'altro giornale, il nostro.